Ciao a tutti e benvenuti e che Carbonolo da Champions sia caro Carbonolo o domani sera o mai più a questo punto sperando, sperando ancora in un contributo e in una mano. Andiamo dove ci troviamo di solito prima delle nostre partite, questa volta la postazione Champions vale anche per il campionato eccoci hanno parlato Stefano Pioli e Fichto Mori. Siamo sugli infortuni che è la pietra dello scandalo del giorno, mi riconosco totalmente nelle parole del nostro allenatore. Il nostro allenatore non ha minimamente minimizzato il tema degli infortuni e ha detto che tanti infortuni alla lunga possono fare la differenza. Che è un'affermazione importante, una considerazione importante, non ho mai minimizzato nemmeno io qui il problema degli infortuni. Ho sempre semplicemente detto che gli infortuni oggi fanno parte del calcio e che non vanno drammatizzati perché ho visto tante tragedie per gli infortuni prima di Bergamo e il giorno dopo abbiamo vinto 3-2 con l'Atalanta. Dico che fare la caccia alle streghe, chiedere teste, chiedere licenziamenti come stanno facendo i tifosi a questo canale YouTube sulla gestione e la preparazione di una squadra che nelle ultime 75 partite di campionato ha fatto 162 punti mi sembra strambo. Non è assolutamente vero che l'Inter l'anno scorso ha vinto lo scudetto per gli infortuni del Milan tant'è che non a caso i due giocatori più rappresentativi dell'Inter che ha vinto lo scudetto l'anno scorso a Chimi e Lukaku sono stati pagati quasi 200 milioni di euro e se ne sono andati. Quindi c'era un motivo tecnico, un fondamento tecnico e non di infortuni alla scorsa stagione. Adesso continuiamo a parlarne. Restiamo sul tema di Milan-Liverpool, grande match di Champions League, grande evento seguito con attenzione da OneFootball che sostiene l'attività di questo canale YouTube, OneFootball e i suoi contenuti tutti gratuiti, OneFootball è la sua app, soprattutto quella. Andate nella descrizione di questo video per chi vuole, per chi crede, per chi ritiene. È un servizio utile, gratuito, l'app di OneFootball propone news, approfondimenti, curiosità, video e highlights in forma totalmente gratuita. Scaricate l'app di OneFootball. Detto questo, Mr. Pioli ha ricordato che a Milanello si fa di tutto per preservare la salute dei giocatori, per gestirne la rotazione, per prevenire il più possibile. Quindi in una totale condivisione fra allenatore, staff tecnico, staff atletico, staff medico. Quindi questo è quello che succede a Milanello. Poi le statistiche sugli infortuni, adesso molti di voi mi fanno la caricatura di quello che nega l'esistenza degli infortuni. Mai stato un negazionista? Sempre detto qui che gli infortuni sono il nostro peggiore avversario di questa stagione, l'avversario più forte, con tutto rispetto. Del Napoli che in questo momento è secondo, dell'Inter che in questo momento è terzo, dell'Atalanta che in questo momento è quarta, per non parlare di Juventus e Fiorentina. Sempre detto, è sempre detto che l'emergenza infortuni è una brutta bestia. Ricordo che in anni anche più importanti, in anni anche con tanti campioni, avevamo fuori 10 giocatori in Milan-Cesena nel gennaio del 2011, abbiamo vinto lo Scudetto, avevamo fuori 10 giocatori nel febbraio 2012 sia in Udinese Milan 1-2, sia in Milan-Juventus 1-1 del gol di Montari. Abbiamo avuto emergenze infortuni in tutte le epoche, quindi come è capitato anche a moltissime altre squadre. Quindi non è un problema figlio di questo centro sportivo che è indicato nella freccia alle mie spalle, è un problema certamente ricorrente per quanto riguarda il Milan, che nessuno nega e che io ho sempre segnalato. Ho poi detto, dopo aver parlato di infortuni, dopo aver preso atto di questa serie infinita, dolorosa, brutta, pessima di infortuni, bisogna poi stringere i denti, come dice il nostro allenatore. E stringere i denti significa farlo tutti assieme, in maniera compatta, perché certe cattiverie, certi veleni, certi epitoti, certe volgarità, io blocco subito, al minimo accenno di volgarità io blocco subito. Lo dico subito perché la pazienza poi ha un limite. E per carità, abbiamo attraversato anni difficili, in cui ho sempre pensato che tutelare il bene comune fosse la cosa principale. Adesso siamo di fronte ad una squadra che è prima in classifica e che nel girone di Champions tutti pensavano avrebbe avuto vita breve e invece alla sesta e ultima giornata è ancora viva. Quindi, certi toni cattivi, poi l'analisi critica, certi toni cattivi non sono ammessi. Certi toni da apocalisse non sono ammessi. Qualcuno di voi non riesce a scrivere che andremo in serie B perché non ce la fa, perché proprio non ce la fa, ma avrebbe voglia di scriverlo, e addirittura parla di lotta certa per l'Europa League o andare certamente in Europa League. Ragazzi, a un certo punto di fronte a così tanta emotività negativa, di fronte a certe considerazioni dispregiative nei confronti del lavoro che sta facendo la squadra, io poi smetto anche di discutere, rispetto tutti, ascolto tutti e smetto di discutere. Poi certo che l'analisi critica, lo sfogo legittimo, i dati sono inoppugnabili. Certo che siamo molto colpiti dall'emergenza infortuni, ma attenzione che quella di infortuni è un'onda che viene e che va e che anche se qualcuno in questo momento ne è immune magari se la potrebbe ritrovare in casa nel momento più delicato della stagione, che non è certo questo. Che non è certo questo. Anche se, come tutti i momenti della stagione, anche questo è importante. Adesso bisogna stringere i denti. E' questo che chiede il nostro allenatore, è questo che è pronto a fare il Milan. Il Milan stringe i denti, tutto insieme, tutto compatto, per andare in campo e cercare di fare il meglio possibile. Come abbiamo fatto l'anno scorso a Verona, come abbiamo fatto l'anno scorso a Sassuolo, come abbiamo fatto l'anno scorso a Bergamo, come abbiamo fatto quest'anno a Bergamo, come abbiamo fatto all'andata a Liverpool quando siamo andati senza Ibregiru, ma ci siamo trovati a un certo punto anche sul 3-1 a nostro favore, prima che il gol di Kier venisse annullato giustamente, ma per un fuorigioco, insomma, veramente questione di centimetri. Perché anche quelle sono le sfortune. Ora, io dico che questa è una squadra ben allenata, questa è una squadra che corre, che dà soddisfazione sul piano atletico tutte le volte che va in campo con qualsiasi giocatore che riesce a mettere in campo. Se a volte perdiamo delle partite lo facciamo per errori individuali, è successo con Fiorentina e Sassuolo che si sono meritati le loro vittorie, ma sostenere che questa sia una squadra male allenata e mal gestita bisognerebbe portare però argomenti concreti. Non lo sfogo o l'additare Suma perché sembra che se Suma non attacca e non critica poi gli infortuni sono colpa di Suma che non attacca e non critica. Andate altrove. Ragazzi, il mondo è bello perché è vario. Ci sono tanti canali. Io non ho la pretesa di fare il tutto esaurito qua e infatti non lo faccio. Faccio un canale in cui dico come la penso. C'è chi la pensa diversamente da me, ben venga, mancherebbe altro, non ci fosse la dialettica, ma imporre a me di dire quello che che lo stalker o l'hater, velenoso e cattivo, vuole che io dica no. Questo non è possibile. Questo non è possibile. Né ora che ci si parla io attraverso un video e chi scrive nascosto magari nell'anonimato e non sarebbe possibile nemmeno se ci si incontrasse Deviso. Quindi questo non è possibile. Per cui bisogna imboccare un'altra strada per uscire da questa situazione. Il nostro allenatore dice adesso stringere i denti e a gennaio la situazione sarà certamente migliore. È quello che dobbiamo fare. Non c'è altra alternativa. Non ci sono epurazioni, cacce alle streghe, out di qui, out di là. Con il Pioli out a ottobre del 2019 forse si era già un filo esagerato. Pronti via, subito out. E gli out continuano. Liberissimi di fare out. Io, se permettete, tifo per la squadra e stringo i denti insieme alla squadra. Nell'amarezza e nella stizza dell'emergenza infortunica, il flagello peggiore che possa capitare durante una stagione, pur con questo clima, pur con la rabbia sportiva di non potersela giocare alla pari per questi stramaledetti infortuni, o stringo i denti insieme alla squadra. Ma sono certo che alla fine, nonostante gli sfoghi contro il solito suma, poi lo farete anche voi. Ciao a tutti e a domani. Grazie. Grazie.